Salve a tutti ragazzi sono N111, oggi troviamo su War Thunder Allora io vi racconto subito una cosa, tanto per cambiare Allora io avevo già registrato War Thunder prima con questi aerei italiani E stavo andando benissimo, sono arrivato persino al primo posto Mai capitato ed ero diventato bravissimo Ma adesso per colpa di questo microfono si è abbassato automaticamente il volume Proprio se autodistrutto ci sarà stato qualcuno proprio Avrà detto microfono non fa registrare nessun volume E quindi in poche parole non mi ha registrato niente E acqua passata comunque Latte versato non importa comunque Iniziamo facciamo con i nostri aerei italiani Con il nostro aeroplanino di carta Non ho il generale, non capisco dove caspita siamo Vabbè in qualche parte Ok iniziamo tra 5 secondi precisamente Cosa vi racconto? Niente perché siamo partiti Ok ragazzi Ingaging Stiamo ingaggiando, stiamo ingaggiando Colpito, si ragazzi l'ho colpito Adesso tocca a lui Non l'ho mancato, non l'ho visto Non l'ho preso di mira per pochissimo Adesso cerchiamo di prendere l'oro di mira No povero alleato Ha sbattuto, non ce l'ha riuscito Dai che li sto ingaggiando ragazzi Li sto ingaggiando No no, questi alberi sono piuttosto vicini Ok, combattiamo contro di lui No girati aereo No, sta precipitando ragazzi Cosa facciamo? Allora scegliete Andiamo in alto Non c'è niente da scegliere Ok è finito Oh ma si è salvato il pilota Non è esploso Ha detto solamente schiandato E va bene Il pilota è salvo ragazzi Tutto merito mio Va bene iniziamo con l'altro aeroplanino Di carta stagnola Proprio fatta male No 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 Mayday mayday Ma no non ci provate Mi stanno sparando da tutti i lati Che andiamo contro di lui Siamo ancora qui Siamo in treno Non abbiamo fatto niente Ma grazie a me l'abbiamo distrutto Salvatore di forze di terra Meno male Grazie al mio intervento Quindi adesso Dove andiamo Contro lui Contro lui Mi piace lui Molto più vicino Molto conveniente Dai che ci riusciamo Non ci sono riuscito Sì ci sono riuscito A fare colpo Ok adesso stiamo dietro di lui Quindi un altro colpo Dai che ci riusciamo ragazzi Dai che l'ho in pieno Dai che l'ho in pieno Dai ragazzi No perché c'è un mio alleato qua vicino Questo alleato qua È troppo vicino Ho un alleato troppo vicino Ma l'ha capito Guardate Voleva sbattere contro di me Assist nemico eliminato Va bene abbiamo fatto pur sempre qualcosa Perché non mi dice colpo Ok si l'ho fatto Qua dietro c'è un tizio Smettila Guardate ragazzi No 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 Ho sbagliato No ho sbagliato manovra Maledizione Maledizione a questo qua Dai precipita Non si è salvato pochissimo Io ti ammazzo Quindi adesso andiamo con il nostro aereo migliore Breda Sì che sarebbe l'aereo dove c'è il mitragliere qua dietro Come va fratello? Tutto bene? Tutto bene Ok quindi andiamo Andiamo quindi contro lui Solamente due chilometri di distanza Sta distruggendo però i nostri alleati Andiamo a salvarli Dai più veloce Preparati i mitragliere Dobbiamo ingaggiare E' un po' ansioso Lo vedo in faccia Non so come faccio a vedere la sua fascia Perché siamo un po' lontani Ma vabbè Lo intuisco Quindi colpiamo Perfetto l'abbiamo già colpito Ti colpirò Sì si sono riuscito No sto precipitando Ok Avevo un attimo l'ansia di sbattere contro il terreno Ma questo qua combatte anche troppo vicino al terreno E' un po' complicato ragazzi Ok ho preso bene la mira Unità distrutta ragazzi Il salvatore di forza di terra Sono primo No terzo E vabbè Sempre meglio di essere ultimo ragazzi Sali Mitragliere qua dietro Prova a combattere bene Aiutami Ti prego Allora ragazzi Io non posso fare niente Però c'è qui il mio mitragliere alleato Prova a cambiare visuale Mettiti bene aereo No Mettiti bene No come zona morta No Ragazzi No me l'aspettavo Cambia posizione No ho sbagliato Ho sbagliato manovra Dobbiamo cercare di fare qualcosa di bello Si è confuso? Si si è confuso Ok ci siamo riusciti quindi No 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 Ragazzi Questa nemesi è parecchia forte Vediamo Ci riusciremo Ci proviamo Ok Stiamo combattendo in modo molto strano Ok Dai spara Dai amico Dai Per favore Sei l'unica salvezza dell'aereo Mi sta colpendo Non capisce Non capisce Le mitragliere La radio avrà qualche malfunzionamento No Prego Mi dai Abbandoniamo Non riesco più a salire Scappa Vabbè ci siamo salvati Vabbè Maledizione Ma missione compiuta ragazzi Abbiamo vinto Terzo posto in squadra Bellissimo risultato È stato perfetto La cosa che mi dispiace È che ho perso prima la registrazione Quindi non potevate Proprio vedere Che ero arrivato Prima posizione Ma Vabbè Niente Comunque spero che il video vi sia piaciuto Cosa mi sta dicendo Cosa mi ha detto Non lo so Spero comunque il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi Attivando la campanella E ci vediamo Un prossimo video Fai quello che vuoi Va bene Questo Ok No Si è buggato Esci Vabbè Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao